credo di aver scoperto finalmente qual è il mio esercizio preferito per allenare le gambe gli affondi e non l'avrei mai detto perché in passato ho sempre avuto un rapporto di odio e amore con questo esercizio e preferivo fare altri come il back squat di recente anche lo squat bulgaro ma adesso mi sto focalizzando molto di più sugli affondi e il motivo è semplicemente questo che quando facevo lo squat bulgaro il giorno dopo sentivo dolori soprattutto ai glutei e ai bicipiti femorali non è quello che voglio perché in questo momento voglio focalizzarmi molto più sui quadricipiti se mi allenassi in palestra mi focalizzerei sul front squat ma perché non mi alleno in palestra e mi alleno a casa principalmente a peso corporeo uso solo uno zainetto per sovraccarico allora faccio gli affondi ho notato che il giorno dopo l'allenamento sento dolori soprattutto sui quadricipiti ok pochi sui bicipiti femorali e pochi sui glutei che è esattamente quello che voglio anche perché comunque i glutei già abbastanza grandi non ho bisogno di allenarli tantissimo voglio far progredire parecchio i quadricipiti quindi nei prossimi mesi mi focalizzerò molto sugli affondi e in genere io comunque mi carico un 10 15 kg di zainetto dietro la schiena e metto a fare un bel po di serie di affondi grazie a tutti grazie a tutti